Federico Petrelli 26 anni la prima volta che va in su a dorso nudo in aprile guardate di cosa è capace guarda cioè però viene dalla famiglia questo è il papà quindi abbiamo detto tutto guarda lei è la signora sbragata molto sbragata si copre giustamente ma no no te non puoi permettere questa scoperta vai grande fede è la prima volta ragazzi a dorso nudo in aprile la prima volta in sub è un grande veramente un grande poi la mamma è mia cucina quindi cioè il papà l'avete visto la mamma è mia cucina ma che fisico 26 anni grande fede saluta saluta a marì nonna sarebbe mia zia tagliatelle quando vai stai saluta a lorena tua moglie ciao amore ti manca che la ride la tanto ti inquadro ecco a lei gli dai un po' del sole un po' apposta meno rema commenti a caldo bello è certo aprile non è il periodo per iniziare a imparare sì ma può darsi cambia corrente dopo si pulisce grande fede